Siamo con Giuseppe Vacca dell'omonima azienda di Oristano, risicoltore. 40 anni fa la fondazione della Sapise lui c'era. Sì, diciamo che non sono arrivato il primo giorno, sono arrivato due anni dopo. Grazie all'interessamento del fondatore, del dottor Falchi, che mi aveva accolto sotto le sue ali, e seguivo molto il riso tramite lui negli anni 80, nel 1980, ha deciso di inserirmi nella compagine societaria. 40 anni di cooperazione, cosa le hanno insegnato come imprenditore? La cooperazione, sembra scontato, ma per noi sardi non è una cosa scontata. Il concetto di cooperazione è un concetto molto sottovalutato in Sardegna. Non esiste la cooperazione ed è forse una delle cose che ci limita fortemente. Io in questi 40 anni ho capito che cooperare, il guadagno maggiore ce l'ho io, non i miei soci. E altrettanto dicasi per i soci. Chi si comporta, chi opera correttamente per il bene della cooperativa fa un bene a se stesso, perché la forza della cooperativa sta proprio in quello, nell'impegno di tutti gli associati.